Pescara ha bisogno di essere aiutata, di avere più sicurezza sicuramente e quindi noi insieme al mio capogruppo UDC Massimiliano Pignoli abbiamo pensato e lavorato di fare questo progetto, quindi questi due punti d'ascolto che andranno sicuramente incontro a queste necessità che oggi Pescara ci chiede ad alta voce e quindi speriamo e ci auspichiamo che questo sia ben visto e risolva qualcosina. Ce ne sarà uno fisso e uno andrà in giro per i quartieri più disagiati. Questi punti di ascolto si metteranno a disposizione di tutti questi cittadini che avranno bisogno, quindi ci sarà un avvocato, un episcologo, insieme alla Caritas metteranno anche loro a disposizione sia la loro formazione che hanno sul territorio e quindi saranno lì ad ascoltare, apprendere e ad aiutare il più possibile. Quello fisso sarà sotto agli uffici URP e quindi saranno aperti dei giorni prestabiliti, due giorni alla settimana con gli orari che poi insieme all'altro gruppo di sopra degli uffici si metteranno a disposizione, quindi ci saranno aiuti anche per quanto riguarda prestazioni, faccio un esempio, se qualcuno ha delle difficoltà nel trovare, a telefonare all'ASL e non trovano appuntamento, oppure qualcuno ha bisogno di un aiuto, di qualcos'altro, saranno tutti lì a disposizione. Il primo dicembre dovranno partire e quindi aspettiamo con ansia questa data.